Il treno Frecciabianca 97-15, di Trenitalia, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12, è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Carrozze dalla 1 alla 3 testa treno, dalla 4 alla 6 centro treno, dalla 7 alla 9 coda treno. Il treno Frecciabianca 97-18, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Milano Centrale, delle ore 12.02, è in arrivo al binario 8. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Padova, Vicenza, Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda, Brescia. Carrozze dalla 1 alla 3 testa treno, dalla 4 alla 6 centro treno, dalla 7 alla 9 coda treno. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Rovigo, delle ore 12.03, è in arrivo al binario 10. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Treviso Centrale, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.04, è in arrivo al binario 3. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce di Trenitalia, proveniente da Bologna Centrale, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.08, è in arrivo al binario 7. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale veloce di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Bassano del Grappa, delle ore 12.08, è in arrivo al binario 12. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale di Trenitalia, è in arrivo al binario 5.00. Il treno alta velocità fra Ciargento 94.08, di Trenitalia, proveniente da Roma Termini, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.10, è in arrivo al binario 5.00. Non sono previste fermate intermedie. La prima classe è in testa al treno. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Vicenza, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.13, è in arrivo al binario 9.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Trieste Centrale, via Udine, delle ore 12.16, è in arrivo al binario 4.00. Ferma a Mugliano Veneto, Treviso Centrale, Conegliano, Sacile, Pordenone, Casarsa, Codroipo, Udine, Cormons, Gorizia Centrale, Sagrado, Monfalcone. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Verona Porta Nuova, delle ore 12.19, è in arrivo al binario 10.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale di Trenitalia, delle ore 12.22, per Noale Scorzae, è in partenza dal binario 12.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce di Trenitalia, proveniente da Sacile, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.20, è in arrivo al binario 3.00. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale di Trenitalia, delle ore 12.24, proveniente da Padova, è in arrivo al binario 9.00. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce di Trenitalia, proveniente da Bassano del Grappa, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.24, è in arrivo al binario 11.00. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale veloce di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Verona Porta Nuova, delle ore 12.24, è in arrivo al binario 8.00. Ferma a Padova, Vicenza, San Bonifacio, Verona Porta Vescovo. Il treno alta velocità Fra Ciargento, 94.12, di Trenitalia, proveniente da Salerno, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.25, è in arrivo al binario 5.00. Non sono previste fermate intermedie. La prima classe è in testa al treno. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Udine, delle ore 12.29, è in arrivo al binario 4.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Adria, delle ore 12.32, è in arrivo al binario 12.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale di Trenitalia, delle ore 12.32, proveniente da Noale Scorzae, è in arrivo al binario 10.00. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Conegliano, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.34, è in arrivo al binario 3.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.34, è in arrivo al binario 3.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale di Trenitalia, delle ore 12.35, per Padova, è in partenza dal binario 9.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno alta velocità Fra Ciargento, 94.27, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Roma Termini, delle ore 12.37, è in arrivo al binario 6.00. Ferma a Padova, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina. La prima classe è in coda al treno. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Porto Gruaro Caorle, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.38, è in arrivo al binario 1.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Castelfranco Veneto, delle ore 12.40, è in arrivo al binario 12.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Sacile, delle ore 12.43, è in arrivo al binario 4.00. Ferma a Mugliano Veneto, Treviso Centrale, Spresiano, Conegliano. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Verona Porta Nuova, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.43, è in arrivo al binario 9.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce di Trenitalia, proveniente da Udine, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.46, è in arrivo al binario 1.00. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Vicenza, delle ore 12.49, è in arrivo al binario 10.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno Italo, alta velocità 99.84, di nuovo trasporto viaggiatori, proveniente da Salerno, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.50, è in arrivo al binario 5.00. Non sono previste fermate intermedie. L'ambiente smart è in testa al treno. Per agevolare l'accesso al treno invitiamo i viaggiatori a disporsi lungo il marciapiede, in base alla posizione della carrozza relativa a livello di servizio acquistato, consentendo prima di salire, la discesa dei viaggiatori in arrivo. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Castelfranco Veneto, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12.52, è in arrivo al binario 11.00. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale veloce di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Trieste Centrale, delle ore 12.53, è in arrivo al binario 2.00. Ferma a Quarto D'Altino, San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Porto Gruaro Caorle, La Tisana Lignano Bibione, San Giorgio di Nogaro, Cervignano Aquileia Grado, Monfalcone. Il treno regionale veloce di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 12.54, è in arrivo al binario 6.00. Ferma a Padova, Terme Ugane e Abano Montegrotto, Monsellice, Rovigo, Ferrara, San Pietro in Casale. Il treno regionale di Trenitalia, delle ore 12.57, per Porto Gruaro Caorle, è in partenza dal binario 1 Giardino. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Treviso Centrale, delle ore 12.59, è in arrivo al binario 4.00. Ferma in tutte le stazioni.